Non è ancora tempo di godersi la prima piazza che, seppur occupata con una compagnia assai folta, significa aver centrato sino ad ora tutti gli obiettivi prefissati. Due vittorie interne e un pari nel solo turno esterno sin qui disputato. È il ruolino di marcia di un Piacenza che domani proverà ad allungare la serie con un avversario della Bergamasca, ovvero la Grumellese. Spampatti, Lex Tignonsini e Occhi Re sono i giocatori più rappresentativi della matricola lombarda allenata da mister Bonazzi, reduce dalla rocambolesca caduta di Sesto San Giovanni e ancora arenata sul fondo della graduatoria. Mister, il calendario ideale per questo inizio? No, il calendario non significa niente. Domani avremo una partita difficilissima. Queste frasi si dicevano già prima di Ciserano, si vede che guardate troppo il nome dell'avversario, ci saranno le penne e domenica se non saremo quelli determinati cattivi che siamo stati nelle ultime partite rischeremo di lasciarci le penne. Piacenza che gode di ottima salute e che recupera anche gli acciaccati Stefano Franchi e Di Cecco. Per il tecnico di Vernasca c'è l'imbarazzo della scelta, anche se l'allenatore bianco-rosso raramente ricorre a turnover radicali. Il solo indisponibile sarà Minincleri, protagonista di una fastidiosa ricaduta dopo la gara con la pergolettese di mercoledì sera. Pressoché certo il ritorno dei due franchi sul fronte offensivo, da valutare il ballottaggio tra i centrali difensivi Sentinelli e Ruffini con il primo in vantaggio sull'ex Castiglione, autore mercoledì di una prova comunque inappuntabile. Tante opzioni per il reparto offensivo, però è proprio la difesa che ha impressionato maggiormente in queste prime tre partite. La difesa intesa come squadra sicuramente sì, stiamo facendo bene da inizio della preparazione, una squadra che difende tutti insieme a partire dagli attaccanti che veramente fanno un grande lavoro, il grande lavoro che gli viene richiesto il sacrificio di corsa e di lotta lo viene fatto da loro e questo sicuramente trae beneficio tutta la squadra. Quello è un punto di continuità, dobbiamo continuare così e migliorare in altri settori ma anche lì come squadra, non solo come reparto. Tempo di straordinario ovviamente anche per il Fiorenzuola. Il pareggio ottenuto con il mappello Bonate ha riportato serenità all'interno del gruppo dopo il brutto K.O. di Ponte San Pietro. Al comunale è in arrivo la Pro Sesto, prima della classe, della temibilissima coppia offensiva Comi Battaglino. Mister Mantelli recupera Sessi e Orlandi che rientrano dalla squalifica, mentre sarà di nuovo disponibile Volpe che dovrebbe essere tra i titolari. Si profila un nuovo impiego part-time per Elvis Abruscato.